Rimarrà nello spiazzale dell'ospedale Maddalena Raimondi di San Cataldo sino a lunedì prossimo 8 aprile l'unità mobile per mammografie gratuite. Un'iniziativa dell'ASP di Caltanissette in collaborazione con Progetto Luna. Ben dopo due anni si ripete l'iniziativa promossa dell'ASP delle mammografie all'interno del presidio di San Cataldo. Iniziativa la quale promuove l'attenzione alla prevenzione. Invito proprio tutte le donne di San Cataldo e della provincia a venire e a fare questo investimento. Un investimento di pochi minuti che sicuramente renderà tanto per la propria vita, la propria salute e la propria famiglia. Ripeto, un investimento per la salute. Ringrazio ulteriormente la Ersilia Sciandra e tutto il Progetto Luna. Le ringrazio per il loro coraggio, il loro entusiasmo e la loro perseveranza. Grazie a loro diverse donne nella provincia hanno avuto la possibilità di conoscere in tempi non sospetti e in tempi utili per un'eventuale guarigione del carcinoma della mammella. Donne venite e fate questo investimento per la salute. Lo screening alla mammella per le donne dai 50 ai 69 anni arriva a San Cataldo dopo la grande adessione a Riesi, dove ne sono stati effettuati 298, dalle 25 al 28 marzo e a Sommatino, che ha raggiunto quasi 300 controlli dalle 29 marzo al 2 aprile scorsi. Questa è la terza tappa che fa l'unità mobile nei comuni. L'ASP promuove lo screening della mammella, così come promuove anche quello dell'utero, del colon. L'unità mobile è già stata a Riesi e a Sommatino, con una grande adesione. Le donne sono sensibili a fare prevenzione e questo noi lo dobbiamo ringraziare. Sono attenti alla loro salute e anche ripagano l'ASP perché da sempre si è impegnata in questa prevenzione. Ora siamo a San Cataldo, fino a lunedì giorno 8. Il messaggio che vogliamo dire alle donne è quello che anche se non hanno ricevuto la lettera d'invito, possono venire presso l'unità mobile, parlare con la segretaria, dare i loro dati. Se da due anni non hanno fatto la mammografia, la possono fare. Calzanissetta, il primo piano Sant'Elia, sempre con le lettere d'invito da parte dell'ASP, possono offerire le persone che hanno ricevuto la lettera. Qua dicevo, volevo ricordare che per San Cataldo possono venire anche le donne che non hanno ricevuto la lettera. Importante per la fascia di età che è fuori da screening, da 45 a 49 anni, la donna ogni due anni può fare una mammografia gratuita facendo mettere un codice di assenzione che è D, come domodosso, la 03. C'è molta affluenza anche in queste richieste, tant'è vero che abbiamo un ponte asato alla lista di attesa dei tempi del Sant'Elia. Cogliamo l'occasione di rivolgerci alla direzione strategica dell'ASP per fare sì che possiamo abbattere questi tempi che sono diventati un po' lunghi.